Grazie. Quanta più? Mezz'ora. Mezz'ora? 50. Segui a batteria. Facciamo qui. Facciamo qui. Guarda qua, ci sono due tacche. La riposta che non è? Presente. Il primo lavoro? Assente. Se c'è l'aspetto? Assente. Prizza Riccardo? Assente. Piano l'aspetto? Presente. Bella Vieta Voto? Presente. La mia vita vita? No. Davide Viserica? Presente. La rena Sergio? Presente. Puggetti Giorgione? Presente. La Lugiere? Presente. Giacomo Alfredo? Presente. Puggetti Giorgione? Presente. Puggetti Silvano? Presente. Domato Ugo? Presente. Puggetti Calpa? Presente. Puggetti Giorgione? 우 거기. Presente. Dovente hickman. Presente. Puggetti Giorgione? Presente. Puggetti José Jaime? Presente. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché? Perché? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.